Preoccupazione legittima perché bisogna assecondare esigenze di liberalizzazione che vadano in direzione dei consumatori sicuramente. Da altri versanti però evitare che si creino ulteriori grumi di monopolio rispetto alla gestione del global service immobiliare perché poi succede che i soggetti più forti economicamente si organizzino e tolgano spazio soprattutto ai giovani professionisti. Il problema è quello di combinare le esigenze. Liberalizzare significa diminuire gli oneri per i consumatori, deve significare dare più opportunità di lavoro ai giovani. In questo caso c'è anche un problema di tutela più in generale perché si toglie spazio al notariato soprattutto per le piccole pratiche però si organizza soprattutto un mondo che è quello delle banche che toglie spazio ai professionisti. Bisogna, ripeto, combinare diverse esigenze, tutela, mercato, consumo e anche il lavoro dei giovani.